L'assessorato alla cultura del comune di Benevento annuncia l'evento teatrale alla Fiera dell'Est, scritto, diretto ed interpretato da Enrico Torzillo, con la partecipazione musicale di Antonio Onorato, venerdì 30 novembre, ore 21, al Teatro Desimone di Benevento. L'ingresso è gratuito. Si ringrazia l'ufficio di presidenza della provincia di Benevento, la fanciullaccia, l'atelier Mazzone.